Siamo qui oggi per celebrare le nozze di Maria Vittoria e Giuseppe. Ci troviamo a Villa Gerosa, una raffinatissima residenza nobiliare di campagna nel cuore dei monti Iblei, in una cornice in cui storia, natura ed eleganza si fondono insieme. Grazie a tutti. 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 Oggi Emanuele sarebbe felice al pari di tutti noi. Siederebbe in prima fila nel suo posto e sarebbe fiero di voi, ragazzi, sarebbe fiero di te, Maria Vittoria. E tu sai che la sua felicità batte nel tuo cuore. A Emanuele è dedicata questa giornata di festa. A Emanuele sarebbe in prima fila nel suo posto e sarebbe fiero di te, Maria Vittoria. A Emanuele sarebbe in prima fila nel suo posto e sarebbe fiero di te, Maria Vittoria. A Emanuele sarebbe in prima fila nel suo posto e sarebbe fiero di te, Maria Vittoria. A Emanuele sarebbe in prima fila nel suo posto e sarebbe fiero di te, Maria Vittoria. Vittoria, Giuseppe, è tempo di festeggiare insieme ai vostri cari. Con tutto il cuore vi riconosciamo marito e moglie.